Smetti di combattere ragazzo, arrenditi. Niente mi può fermare! Lear! Tutto questo solo per fuggire! Fuggire? Nella sua incarnazione precedente lo stesso Dragonero si è inchinato di fronte al mio potere. Tu cosa sei? Sono il vero maestro di questa terra! Affronta il tuo destino! Non ci vuole maestro! Molletevi il tuo destino! Viego marrone! No! Viego marrone! Cosa! Grazie.